L'amministrazione comunale di Ogliastro Cilento, guidata dal sindaco Michele Appolito, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di importanti interventi nella frazione eredita. Questa serie di interventi è volta al risanamento idrogeologico per fronteggiare il dissesto riscontrato e salvaguardare la pubblica e privata incolumità. La frazione ereditese è particolarmente rischiosa per quanto riguarda possibili frane, il legrado delle strade e questo rende necessari questi lavori che interesseranno anche la messa in sicurezza dell'abitato. Il quadro economico del progetto prevede un importo totale per i lavori di circa 1.710.000 euro. I restanti 790.000 euro circa a disposizione dell'amministrazione verranno usati per le indagini geologiche, progettazione e direzione dei lavori e per varie spese. La proposta presentata dal sindaco Appolito è stata approvata e resa immediatamente esecutiva.